Il sangue sul casco e sull'asfalto, le lamiere contorte dello scooter, a terra i pezzi del motorino sparsi un po' ovunque. È stato uno scontro violentissimo ed ora il ventenne alla guida del motorino è ricoverato in rianimazione. Al San Bassiano ha riportato un trauma cranico e facciale e le prossime ore saranno decisive. Quando i sanitari lo hanno soccorso lungo la strada cartigliana a mezzogiorno, il giovane era privo di coscienza. Il suo scooter è finito contro il muso di questa macchina che viaggiava in direzione opposta alla sua, ovvero verso Cartigliano. Per disincastrarlo dalle lamiere del motociclo si è reso necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco, mentre i carabinieri si sono occupati dei rilievi di regolare la circolazione che ha subito inevitabili ralentamenti. Sul luogo dell'incidente è arrivato anche il presidente di quartiere San Lazzaro, Stefano Facchina, che denuncia ancora una volta la pericolosità della strada e punta il dito sull'amministrazione per la mancata realizzazione di una rotatoria e di una bretella di collegamento, un progetto che pare essere andato inghiottito nel fondo di qualche cassetto. Diciamo che questo è un punto molto pericoloso perché basta vedere come sono ridotti i guarderai ai lati della strada, molte volte i camion ci sbattono contro. In questa situazione abbiamo già chiesto un tempo dietro di risolvere il problema con una rotatoria che era quella che si doveva fare con la bretella di collegamento che doveva uscire dalla zona industriale di San Lazzaro. Adesso proveremo a perorare ancora la casa per vedere se si può fare qualcosa perché effettivamente è un punto pericoloso. Tanto aspettando i tempi della burocrazia il sangue scorre sulle nostre strade.